che è messo a disposizione prossimamente dalla nostra struttura. Io non toglierei altro tempo al seminario, per cui benvenuti di nuovo, buon ascolto e buon proseguimento. Ok, allora faccio partire. Ok, vedete tutti la presentazione? Sì, vediamo. Ok, perfetto. Allora, mi presento, mi chiamo Daniele Sagone, sono responsabile tecnico commerciale di GFond, azienda che distribuisce pianti per fonderia e in particolare, quello di cui parliamo oggi, queste centrale di termoregolazione. Oltre a questo, sono responsabile per lo sviluppo e la produzione per HPDC, che è l'azienda che le produce. Come GFond, da più o meno 30 anni, saranno 30 anni l'anno prossimo, supportiamo i clienti, quindi fonderie di pressofusione dell'alluminio, nell'ottimizzazione di processo, con particolare attenzione a tempo ciclo, qualità del getto e risparmio energetico. In questo processo il termoregolatore è un elemento chiave, essendo oltretutto l'oggetto che nell'isola consuma più corrente dopo il forno. Negli ultimi anni il continuo crescere della complessità degli stampi e del numero di circuiti, le tolleranze richieste dai clienti sempre più strette, l'aumento del costo dell'energia, ci hanno portato a dover ottimizzare al meglio ogni singolo aspetto e ogni singola periferica del processo di pressofusione, tra cui appunto quello di cui parliamo oggi, che è la termoregolazione nella pressofusione. Iniziamo quindi ad analizzare il processo di termoregolazione di uno stampo e quelli che possono essere i vantaggi nell'ottimizzazione. Fondamentalmente quello che noi dobbiamo fare è andare a limitare l'aumento di temperatura nello stampo, ciclo dopo ciclo, in modo da raggiungere una sorta di equilibrio, quindi avere una stabilità del processo, stabilità del processo che è fondamentale poi per avere un processo controllato e avere pezzi buoni in tempi giusti e con costi giusti. Nel fare questo, utilizzando la centralina, potremo andare a migliorare le proprietà meccaniche, quindi avendo dei tempi di solidificazione costante, avremo delle proprietà meccaniche uniformi sui vari lotti. Potremo andare ad aumentare la produttività dell'isola e quindi a ridurre il tempo ciclo, dopo vedremo come, aumentare lo scambio termico, massimizzandolo e andando a ottimizzare la termica dello stampo. Oltre a questo, se noi andiamo a rendere più omogenea la sottrazione di calore, riusciamo a ridurre il gradiente termico nello stampo, ridurre gli shock termici e aumentare la vita dello stampo. Partiamo quindi da come lavora un termorelatore tradizionale, termorelatore tradizionale che può essere ad acqua o olio. In entrambi i casi noi abbiamo circolazione costante nello stampo di un fluido, mi sottolineo circolazione costante, che è un elemento chiave, a una temperatura impostata e quindi avremo una temperatura target, il termorelatore cercherà di seguire questa temperatura, mandando l'acqua o l'olio alla temperatura impostata, all'uscita andrà a misurare la temperatura e deciderà se accendere le resistenze o aprire lo scambiatore per affreddare o riscaldare. Le tradizionali TCU a olio possono arrivare anche a 350 gradi senza problemi di alte pressioni. Se però il flusso dell'olio non è sufficiente, si potrebbero avere delle problematiche, fenomeni di cracking, quindi residui carboniosi, solidificazione dell'olio e intasamento dei canali di raffreddamento. Nel caso invece di centraline ad acqua, avremo acqua pressurizzata che arriverà intorno ai 200 gradi, ultimamente intorno ai 180, con pressioni molto elevate, normalmente 14-15 bar per garantire l'acqua liquida. Qualsiasi mancanza di flusso o di shock termico può generare del vapore che senza alcuni accorgimenti potrebbe danneggiare la pompa. Le macchine tradizionali sono solitamente a una zona, possono essere anche a due zone, ma se voi andate a guardare una macchina a due zone, essendo ogni zona con una temperatura diversa, in realtà noi abbiamo bisogno di una pompa per ogni zona, un circuito per ogni zona, per cui una macchina a due zone fondamentalmente sono due macchine, unite insieme con un unico PLC. Iniziamo a vedere un po' tutti gli aspetti di chimica e di fluidodinamica che abbiamo analizzato per andare a ottimizzare il processo. Partiamo dal fluido che si può avere in una centrale di termoregolazione, l'acqua o l'olio. Allora, l'uso dell'acqua come fluido termoregolante offre alcuni vantaggi. Innanzitutto l'acqua ha una capacità termica che è doppia rispetto a quella dell'olio, è molto elevata. Questo vuol dire che può assorbire una grande quantità di calore senza subire grandi variazioni di temperatura. Questo ci può consentire di raggiungere e mantenere rapidamente la temperatura di risiderata nello stampo. Oltre a questo, l'acqua è un fluido relativamente economico, disponibile e non inquinante. Sempre per il motivo per cui la capacità termica dell'acqua è doppia rispetto a quella dell'olio, gli scambiatori acqua-acqua a parità di costruzione sono più efficienti di quelli acqua-olio. Un altro punto a favore dell'acqua è la conducibilità termica. Conducibilità termica o conduttività termica che nell'acqua è cinque volte quella dell'olio. In fisica è una grandezza che misura l'attitudine di una sostanza a trasmettere il calore attraverso la conduzione termica. Questo è importante quando i contributi di convezione e raggiamento sono trascurabili, sono minimi. L'olio, nel nostro caso l'olio diatermico, ha dei vantaggi diversi. L'olio può raggiungere temperature più elevate rispetto all'acqua. Ma ci servono veramente queste temperature più alte? A oggi, mediamente, gli acciai per stampi iniziano a funzionare intorno ai 200 gradi. Quindi, probabilmente, il vantaggio principale che in passato era interessante, che era quindi quello di poter arrivare a temperature molto alte con l'olio, senza problemi, forse oggi non è più così importante. Anzi, l'olio può darci, appunto, problemi di cracchizzazione, può darci problemi diversi, per cui forse non è più la soluzione adatta. Oltre a questo, vi ricordo che l'olio diatermico ha una capacità termica specifica e inferiore a quella dell'acqua, quindi ci servirà più energia per raggiungere e mantenere la temperatura desiderata. L'olio è sicuramente più costoso dell'acqua, sia come acquisto che come smaltimento. richiede anche maggiore attenzione per quanto riguarda i rischi di incendio, principalmente. Allora, abbiamo visto che, secondo noi, l'acqua è il fluido più intelligente al momento da usare nella termoregolazione. Ma, mentre l'olio lo acquistiamo, e più o meno va sempre bene, l'acqua, sì, ha un costo più basso, ma l'acqua di rete o l'acqua di pozzo da cui partiamo solitamente non ha di per sé le caratteristiche ottimali per essere utilizzate nei nostri impianti. Vorevo sottolineare particolarmente questa cosa perché sono anni che noi seguiamo i clienti per le centraline e anche per altri impianti e spesso abbiamo visto che i problemi erano dovuti a un'errata conduzione degli impianti che addolciscono l'acqua, che puliscono l'acqua. Per cui, ecco, questa, secondo me, è una cosa particolarmente importante non solo per la termoregolazione, ma per tutti gli impianti della fonderia, quindi il lubrificatore, tutti gli scambiatori. Vediamo un po' quali sono questi valori. Partiamo dal KH. Il KH è la durezza carbonatica e ci indica la quantità di carbonati disciolti. Se questo KH è troppo alto, diciamo sopra i 10 gradi francesi, possiamo andare incontro a formazioni di calcare. Se invece è troppo bassa, non farà più da tampone per la stabilità del pH. Un KH inferiore a 4 rende il pH instabile, quindi il pH può abbassarsi e l'acqua può diventare aggressiva. Questo effetto tampone, appunto, nel momento in cui viene meno, porta a delle fluttuazioni molto rapide del pH, per cui se noi adesso misuriamo il pH in un momento in cui abbiamo il KH molto basso, quella misurazione non avrà valore. Avrà valore in quel momento, ma non saremo sicuri tra un'ora come sarà il pH, poiché appunto ci saranno delle fluttuazioni molto importanti. Motivo per cui, se qualcuno utilizza l'acqua di osmosi, io consiglio sempre di miscelarla con l'acqua di pozzo o con l'acqua di rete, in modo da rimanere con un KH intorno agli 8-10 gradi francesi, che non ci darà, sarà il giusto compromesso tra poco calcare e nessun problema di aggressività, e avremo anche un pH stabile. Un altro punto importante è la conducibilità. La conducibilità indica la presenza di elementi conduttivi disciolti nel fluido. Un valore considerato buono è intorno ai 500 microsiemens. Più saliamo con questo valore, più possiamo andare incontro a altri tipi di fenomeni di corrosione, ad esempio corrosione galbanica. Questa corrosione può aggravarsi in alcuni casi in cui è associata a dei valori particolari del pH. Ci sono determinati casi in cui, se l'acqua ha una conducibilità molto alta, unita a dei pH magari un po' basici, possiamo avere veramente dei fenomeni per cui l'acqua ci va a bucare alluminio o altri materiali. Un altro punto importante sono le particelle in sospensione, perché comunque tutti i nostri impianti, soprattutto anche le centraline, hanno un sacco di valvole, per cui particelle in sospensione dovute a mancata manutenzione dei filtri o a problemi sull'impianto possono compromettere appunto le valvole e possono arrivare a un mancato trattamento dell'acqua di origine oppure possono arrivare da un mancato trattamento dell'acqua di origine oppure possono arrivare queste particelle dal ritorno, dallo stampo, possono arrivare delle particelle metalliche. Quindi, come dicevo, correre l'acqua è fondamentale per avere degli impianti sani, sia centraline che tutto il resto. Un altro punto interessante a livello di fondamenti è l'efficienza dello scambio termico nei tubi, nei passaggi all'interno dello stampo. Quindi, le centraline possono lavorare in due modi. Le centraline tradizionali lavorano con un flusso continuo, flusso continuo, quindi un regime laminare. Mentre le nostre centraline lavorano a impulsi. Lavorando a impulsi avremo un regime turbolento. Nel flusso laminare il fluido si muove in modo ordinato a strati paralleli nel tubo, nel circuito. Le particelle del fluido si muovono in modo ordinato. Il trasferimento di calore avviene principalmente per conduzione attraverso uno strato, attraverso l'ultimo strato di fluido adiacente alla parete del tubo e così anche tra i vari strati dal centro del tubo verso l'esterno. Nel flusso turbolento, invece, il fluido si muove in modo più caotico. Le particelle si mescolano. Questo porta a una maggiore agitazione del fluido, a una migliore miscelazione e questo favorisce il trasferimento di calore con l'esterno. Nel flusso turbolento la conduzione, che era l'unico modo di trasferimento del caso laminare, è affiancata alla convezione in cui il movimento stesso del fluido trasporta il calore. Se vedete le due immagini di questa slide, vediamo nel regime laminare che c'è una forte differenza di temperatura tra il centro della vena fluida e il bordo a contatto con la parete. Per cui avremo la temperatura sul bordo mediamente più bassa della temperatura media. Mentre nel caso di destra, il regime turbolento, avremo una temperatura sul bordo, sulla parete, che è molto simile alla temperatura media. Quindi la temperatura al bordo sarà più alta. Questo va a favorire lo scambio termico. Vediamo adesso, a seconda degli stampi che possiamo trovarci, i vari tipi di termoregolazione che possiamo applicare. partiamo dal caso più semplice, caso di uno stampo senza circuiti di termoregolazione, il caso peggiore. In questo caso, l'unico modo per termoregolare è esternamente lo stampo, termoregolare esternamente lo stampo, e quindi sarà la lubrifica a base acqua. Il problema qual è? Il problema è che dovremo spruzzare un bel po' di litri di acqua a una temperatura che in estate sarà di 30-40 gradi. Questo è lo spruzio dello stampo che può raggiungere temperature molto più alte. Questo significa causare shock termici. Inoltre, a seconda della testa di lubrifica che monteremo, non riusciremo a avere una buona precisione. Rischieremo di raffreddare troppo poco alcune zone e ghiacciare, raffreddare troppo altre zone. Oltre a questo, è anti-ecologico, ovviamente allunga il tempo del ciclo perché noi dovremo fare più passate del necessario per raffreddare lo stampo. Dando più litri di acqua potranno rimanere anche dopo il soffiaggio delle piccole goccioline per cui potremo andare anche ad aumentare la difettosità sul getto. Un altro punto è che noi non controlliamo la temperatura dell'acqua di spruzzatura, per cui avremo due temperature diverse, una in inverno e una in estate come estremi. Questo vuol dire che andremo a termoregolare in modo diverso a seconda della temperatura esterna, quindi è proprio l'opposto di un processo controllato. Passiamo invece ai casi di termoregolazione interna. Il primo caso è se lo stampo ha un solo circuito, un'infissa o un'immobile o se comunque utilizziamo dei cavallotti anche se abbiamo tanti circuiti ma abbiamo magari una sola centralina e quindi andiamo a cavallottare i nostri circuiti ed è come se avessimo un solo circuito. In questo caso tutti i circuiti dello stampo saranno collegati in serie o in parallelo temperatura d'ingresso sarà uguale per tutti i circuiti, la portata nei vari circuiti è sconosciuta così come la temperatura di uscita. Quello che si fa è impostare la temperatura che consente di ottenere il miglior compromesso tra qualità e tempo del ciclo. Avrò quindi una temperatura che va più o meno bene per tutte le zone senza raffreddare troppo quelle più critiche e quindi le più critiche intendo quelle più calde e quindi qui dovrò comunque integrare la termoregolazione con la lubrifica di queste zone calde. Veniamo invece a stampo con tanti circuiti senza cavallotti. In questo caso la termoregolazione consiste nel collegare vari termoregolatori anche a doppio circuito sullo stesso stampo quindi lo stampo avrà numerose tubazioni collegate in parallelo che partono dai termoregolatori e arrivano fino allo stampo solo alcune in serie. Ogni termoregolatore avrà impostata una temperatura di lavoro diversa adatta alle varie zone dello stampo a cui è collegata. In questo caso avremo sicuramente molte più possibilità di adattamento e perfezionando quindi le regolazioni riducendo il tempo ciclo e se lo stampo ce lo permette evitare di usare troppo il lubrificatore per raffreddare. In questo caso noi quello che facciamo è andare a dividere lo stampo per zone con esigenze termiche diverse per ogni zona avremo una temperatura diversa ma sempre un flusso continuo. Qui abbiamo il nostro metodo che è la termoregolazione sincroregolata. in questo caso il termoregolatore è in comunicazione con la pressa e lavorano in sincrono durante le fasi di stampaggio. In questo caso si usano due segnali un segnale di manuale e automatico per decidere tra preriscaldo e lavoro e un segnale di inizio ciclo che normalmente è la seconda fase. Lavoriamo con una sola pompa e una sola temperatura dopodiché la centralina avrà a bordo stampo un manifold che vedremo nelle prossime slide andremo a variare la durata degli impulsi di lavoro in modo da lavorare con passiamo da termoregolazione quindi portata fissa e temperatura che varia a temperatura fissa e portata nell'unità di tempo che varia in realtà le calorie che noi asportiamo sono comparabili è solo un modo diverso di ragionare la termica dello stampo noi possiamo gestire fino a 30 circuiti con una singola pompa i circuiti avranno tutti la stessa temperatura di mandata perché ovviamente avremo una sola pompa ogni circuito potrà avere differenti tempi di intervento e diverse portate vediamo la differenza tra pompa di processo per termoregolazione tradizionale e il nostro caso nel caso di termoregolazione tradizionale noi avremo un singolo circuito magari più lungo o tanti cavallotti per cui avremo bisogno non di tantissima acqua non di tantissima portata ma di più prevalenza più pressione quindi una centina tradizionale normalmente arriva anche a 7 bar nel nostro caso invece dividendo tanto i circuiti evitando proprio di usare cavallotti quindi magari abbiamo 10 circuiti in fissa li usiamo tutti e 10 non dobbiamo vincere tante perdite di carico per cui non ci interessa avere una pompa con una prevalenza importante ci interessa avere tanta portata per cui se vedete cerchiate in rosso la curva della pompa che utilizziamo utilizziamo una curva molto piatta per cui all'aumentare della richiesta di acqua abbiamo comunque una una pressione costante spesso ci viene chiesto dai clienti perché non controlliamo la temperatura per ogni circuito sul ritorno riteniamo che il controllo debba essere fatto con una termocamera in fase di creazione del programma di lubrifica questo perché perché i circuiti nello stampo a meno di casi particolari saranno a distanze diverse dalla superficie dello stampo avranno lunghezze diverse curve diverse quindi perdite di carico diverse questo fa sì che le diverse temperature sui ritorni non siano comparabili non abbiamo una correlazione lineare né tra di loro né con la superficie dello stampo per questo pensiamo appunto che abbia poco senso andare a controllare le temperature sui ritorni a meno che uno stampista non ci faccia uno stampo dove ogni circuito ha la stessa distanza dalla pelle abbia le stesse perite di carico ma a oggi non ho ancora visto una situazione del genere un test utile ovviamente ovviamente se noi non possiamo andare a vedere le temperature sul ritorno non abbiamo neanche una sicurezza su come le portate si dividono sui vari circuiti diciamo che un test utile che può evitarci problemi è comunque verificare periodicamente le portate per ogni circuito in modo da monitorare eventuali restringimenti occlusioni dovuti a calcare o altro sarebbe buona norma un test quando si monta lo stampo con i flussimetri in modo da avere un punto zero e poi verificare con una cadenza prefissata motivo per cui noi abbiamo incluso nella macchina un test di flusso che consigliamo di fare quando lo stampo è nuovo comunque pulito e ogni tot per vedere come come stanno ecco i circuiti quindi abbiamo detto che il nostro scopo è aumentare il controllo del processo ed essere il più tempestivi possibili nel processo di termoregolazione quindi il nostro scopo è quello di fornire precisione efficacia alta potenza di raffreddamento e risparmio energetico entriamo un po' nello specifico del metodo quello che vediamo in questa immagine è il mani considero l'oggetto cardine della macchina noi abbiamo dalla centralina parte un unico tubo arriva a bordo stampo a bordo stampo abbiamo questo manifold che è formato da allora un attore che è formato da un massello dove abbiamo un ingresso e dieci uscite dopodiché abbiamo dieci valvole pneumatiche on off che vengono comandate da un sistema elettro pneumatico oltre al tubo di mandata dell'acqua avremo un cavo canvas per mandare i dati al sistema e il tubo dell'aria compressa per ovviamente aprire le varie valvole ok come va a lavorare fondamentalmente di queste di queste valvole noi decidiamo per quanto tempo deve devono andare questi impulsi e come lo facciamo lo facciamo attraverso una sorta di ricetta divisa per ogni singolo canale vediamo nell'immagine in basso a destra quelli che sono ad esempio questa è la schermata di un manifold quindi circuiti da 1 a 10 vedremo quindi il numero del circuito abilitato o disabilitato la potenza del singolo circuito da 0 a 100% il ritardo rispetto allo start ciclo e la durata adesso nella prossima schermata abbiamo un grafo in cui vi spiego bene le singole fasi del programma in relazione a quello che succede a livello termico nello stampo eccoci qui allora qui partiamo da in alto a sinistra questa linea verde qui potete vedere la rappresentazione grafica del funzionamento delle nostre valvole quando inizia lo start ciclo noi possiamo inserire un ritardo questo ritardo può servire a due cose ad esempio non abbiamo la seconda fase abbiamo un segnale precedente per cui abbiamo bisogno di attendere la seconda fase per iniziare a raffreddare un altro motivo può essere che abbiamo bisogno di tenere lo stampo un po' più caldo in fase iniziale per favorire lo scorrimento e riempimento dello stampo dopodiché le nostre valvole iniziano a pulsare per un tempo che in prima battuta quando si fa un primo programma normalmente è l'apertura stampo perché da lì in poi ci sono tutta un'altra serie di concause che abbattono la temperatura quindi normalmente da qui in poi non serve più raffreddare come funzionano questi impulsi noi abbiamo discretizzato in periodi da tre secondi quindi se noi impostiamo 50 potenza 50% avremo un secondo e mezzo di acqua aperta e un secondo e mezzo di acqua chiusa se impostiamo 100% avremo i tre secondi di acqua aperta meno una piccola quantità di tempo che ci serve per chiudere e riaprire la valvola e mantenere quel regime turbolento che ci interessa per per massimizzare lo scambio termico qui sotto in rosso vediamo il ciclo della temperatura con una centralina tradizionale in verde con una centralina con questa termororazione sincro regolata partiamo dalla termororazione tradizionale quando parte il ciclo siamo al punto di temperatura minima perché perché io ho aperto lo stampo ho estratto il pezzo ho lubrificato nel frattempo comunque ha continuato a girare acqua nello stampo quindi qui abbiamo il punto di temperatura minima in questo momento il termoregolatore tradizionale ha una temperatura target da raggiungere ma saremo troppo bassi quindi accende le resistenze il termoratore accende le resistenze ma abbiamo l'iniezione di alluminio e quindi abbiamo la temperatura che sale decisamente di più arrivato qua in cima il termoratore tradizionale dirà ok la temperatura è troppo alta spengo le resistenze apro lo scambiatore era freddo ma nello stesso momento abbiamo apertura stampo quindi convezione aria la lubrifica togliamo il getto per cui la temperatura crolla e quindi questo ci dà questo delta termico abbastanza ampio se invece noi abbiamo dei segnali della pressa sappiamo cosa sta succedendo e impostiamo un programma riusciamo a stringere molto questo delta termico perché comunque noi da qui iniziamo subito e raffreddiamo e basta perché comunque questa macchina per come è concepita in produzione non può mai accendere le resistenze mentre in previscaldo lavoriamo in modo molto simile alla centralina tradizionale con tutte le valvole aperte e potenza e resistenza al massimo per scaldare lo stampo nel minor tempo possibile quindi qui vediamo che noi qui non stiamo scaldando ma stiamo raffreddando quindi nella prima parte saliremo di meno poi abbiamo una parte di equilibrio dopodiché normalmente qui ci fermiamo l'acqua si ferma potrà crearsi del vapore in alcune zone dei circuiti sul ritorno abbiamo un sistema per cui andiamo a dividere eliminare il vapore in modo da non danneggiare la pompa qui noi ci fermiamo per cui abbiamo solo le motivazioni pratiche quindi lubrifica apertura stampo estrazione del getto sono gli unici elementi che ci fanno raffreddare lo stampo e arriviamo a questo punto qui quindi saremo molto più stretti con una media un po' più in alto un punto minimo più in alto questo ci permette di avere un delta termico molto più stretto e quindi nel tempo di aumentare la vita del stampo di avere un importante risparmio energetico e dopo vi farò vedere dei numeri che perché comunque non accendiamo mai le resistenze in produzione e riusciremo anche a lubrificare di meno perché se lo stampo ce lo permette e quindi abbiamo dietro le zone critiche comunque dei circuiti noi abbiamo tanti circuiti per cui possiamo riuscire a portare lo stampo alla temperatura corretta prima della lubrifica in questo caso la lubrifica dovrà essere solo il minimo indispensabile per poi avere il distacco del getto qui volevo farvi vedere un esempio in cui abbiamo utilizzato a nostro vantaggio l'avere tantissimi circuiti e poterli gestire in modo diverso in questo caso avevamo un problema su una spina la spina di sinistra vedete che a temperature decisamente più alte e spesso andava incontro a fenomeni di incollaggio era uno stampo a due impronte molto spesso quella di sinistra era scarto qui il circuito tradizionale entrava era un unico circuito che entrava nella spina di destra poi passava in quella di sinistra e poi usciva allora innanzitutto la temperatura dell'acqua che entrava nella seconda spina era sicuramente più alto della prima spina ma non era solo questo il problema nel momento in cui abbiamo diviso le due spine con due circuiti dedicati raggiungendo questo risultato quindi decisamente più omogeneo abbiamo comunque dovuto dare molta più acqua alla spina di sinistra probabilmente capita che sul da disegno due circuiti sono perfettamente uguali poi magari le furature un po' di calcare qualunque altro problema fanno sì che lo scambio termico sia diverso tra due spine apparentemente uguali quindi in un caso abbiamo bisogno di utilizzare tanta più acqua rispetto all'altro caso parlando sempre di importanza quindi di controllo del processo in ottica di avere un'ottimizzazione ancora più fine abbiamo abbiamo reso la nostra macchina la nostra centrale di termoregolazione perpetuo ridi perpetuo è il nostro software di manutenzione predittiva in questo modo avendo questa connessione in modo nativo al nostro software di manutenzione possiamo andare a tramite perpetuo prevedere malfunzionamenti evitando dei fermi indesiderati che potrebbero rallentare la produzione o comunque portarci dei danni cosa possiamo monitorare con questo software di manutenzione predittiva il corretto funzionamento dello scambiatore di calore dei filtri perdite di acqua nei circuiti tubi intasati corretto funzionamento della pompa efficienza degli elementi riscaldanti come lo facciamo lo facciamo con un software di machine learning che permette di applicare algoritmi di manutenzione predittiva ai componenti della centralina quindi ecco questo è un altro elemento che ci permette di mantenere il controllo un fattore fondamentale nello sviluppo di un metodo nuovo perché comunque questo è un metodo diverso da quelli usati fino ad oggi un fattore fondamentale è raccogliere tanti dati quindi noi periodicamente effettuiamo effettuiamo dei test presso i nostri clienti per avere sempre nuovi dati in relazione comunque al progredire degli stampi della tecnologia degli stampi e del metodo di lavoro qui potete vedere che nell'anno scorso abbiamo effettuato analisi in quattro fonderie tre in Italia e un all'estero in Turquia confrontando la nostra tecnologia con quella tradizionale e adesso vedremo un po' i risultati di questi test questo è il primo test abbiamo effettuato prima una prova con le macchine che aveva il cliente erano due macchine a olio dopodiché le abbiamo sostituite con la nostra macchina ad acqua abbiamo avuto un risparmio energetico in produzione del 77% questo grazie al metodo che vi dicevo prima quindi di non accendere mai le resistenze una riduzione del tempo ciclo del 10% perché comunque abbiamo dovuto lubrificare di meno e un incremento di produzione del 15% in questo caso l'incremento di produzione è maggiore della riduzione del tempo ciclo perché il cliente aveva qualche problema di scarti che abbiamo risolto andando a dividere e ottimizzare le singole zone dello stampo tra l'altro in questo caso il test è stato effettuato con una lubrifica waterfree e quindi avevano bisogno di una centralina che asportasse grandi quantità di calore perché ovviamente con la lubrifica waterfree non si ha raffreddamento dello stampo secondo caso pressofusione in sebbine pressofusione in sebbine ha voluto fare un'ottimizzazione molto spinta abbiamo abbinato una testa della Vollin per questo test partendo sempre dall'olio siamo arrivati a degli ottimi risultati in termini anche di tempo ciclo in questo caso vedete un risparmio energetico del 50% perché la misurazione era stata fatta includendo anche il pre riscaldo e come vi dicevo prima in pre riscaldo le calorie da dare lo stampo sono quelle non possiamo barare è fisica e quindi mettendo insieme pre riscaldo e fase di lavoro il risparmio energetico è venuto fuori essere del 50% loro non avevano particolari problemi di scarto quindi abbiamo un meno 15% di riduzione del tempo ciclo e un più 15% di incremento di produzione con un risparmio annuo di 120.000 euro questi 120.000 euro come anche gli altri valori comprendono esclusivamente il risparmio energetico e il tempo ciclo guadagnato non abbiamo contato ad esempio mancato il costo dell'olio lo smaltimento dell'olio il distaccante risparmiato e ricordiamoci che per far funzionare il lubrificatore serve l'aria compressa quindi anche l'aria compressa che ha un costo importante tutti questi non sono stati contati perché sono un po' più complicati da valutare qui abbiamo invece il caso in Turchia in Turchia abbiamo avuto un risparmio energetico dell'80% e una riduzione del tempo ciclo similare agli altri casi intorno al 14% con incremento produzione del 15% in questo caso vedete un risparmio economico annuo più alto degli altri casi perché nel loro caso i secondi di tempo ciclo risparmiati in base ai dati che c'è altro cliente avevano un valore più alto nel loro caso ultimo caso in Italia su una macchina un po' più grande una 1200 tonnellate in questo caso comunque anche con acqua il risparmio energetico è stato del 75% una riduzione del tempo ciclo del 10% qui vedete invece un incremento di produzione del 5% perché sulla sulla linea c'erano dei coli di bottiglia per cui non abbiamo potuto avvantaggiarci di tutta la riduzione del tempo ciclo per andare a incrementare la produzione ok presentazione finita grazie per l'attenzione e se ci sono delle domande sono qui allora interrompo la condivisione mi sentite? grazie mille grazie mille Daniele se ci sono domande potete scriverle sia in chat oppure aprire il microfono e semplicemente porle sono svenuti se non ci sono domande ecco grazie perfetto buongiorno visto che i colleghi si sono addormentati buongiorno si vuole aprire anche la videocamera era per la paura di farvi addormentare no allora la domanda che mi viene in mente io vengo dal mondo della Zama pressofusione Zama quindi vorrei capire se le vostre macchine sono state applicate anche nelle nelle pressofusioni di Zama allora a oggi non le abbiamo mai applicate nella Zama perché non c'erano abbastanza circuiti negli ultimi mesi inizio ad avere qualche richiesta dalla Zama soprattutto per particolari per i vestiti ad esempio Zipo o altri particolari per cui serve una alzare la qualità serve avere tanta qualità e quindi bisogna controllare di più il processo fino ad oggi non ho ancora fatto prove diciamo che si può utilizzare anche nella Zama ma appunto fino ad oggi non ho fatto prove perché non c'erano abbastanza circuiti e quindi io ho bisogno di avere tutta una serie di circuiti nello stampo per potervi dare tutti i vantaggi di cui vi ho parlato se ha uno stampo interessante possiamo parlare in separata sede ok grazie no sì in sostanza abbiamo un circuito per l'inizio e un circuito per la stazione di solito quindi faccio fatica a vedere dei vantaggi applicati in questo genere esatto il problema è quello finché non aggiungete dei circuiti io posso fare posso fare poco va bene grazie prego grazie mille a lei se ci sono altre domande prego mentre bevo nessun altro nessuna curiosità siamo stati esaustivi o sono esausti loro poi comunque nei prossimi giorni vi invieremo allora se è possibile le slide se il nostro relatore ci dà l'ok e comunque la registrazione del webinar e poi ci sarà un questionario di soddisfazione vedo che è arrivata un'altra domanda esatto vediamo che leggiamo la domanda in chat la macchina gestisce anche i jet cooler allora per i jet cooler abbiamo una macchina diversa perché perché innanzitutto noi sconsigliamo di andare a riscaldare questi circuiti che normalmente si parla di jet cooling sotto i 5 mm sotto i 5 mm evitiamo di scaldare per dare ancora calcare e quindi ridurre ancora di più i diametri un'altra questione sono le pressioni noi a oggi utilizziamo una macchina per il jet cooling sempre basata sugli stessi concetti che avete visto ma con una pompa ovviamente che lavora in un modo diverso arriviamo fino a 35 bar ma generalmente in Italia siamo intorno ai 19 bar non di più e è una macchina separata che lavora allo stesso modo quindi con il segnale di star ciclo non avrà il manuale automatico perché comunque non prediscalda e è molto interessante in realtà in GIFA presenteremo una nuova versione di jet cooling che arriva a una temperatura a una pressione di 19 bar dove cerchiamo di non svuotare il circuito dall'acqua a fine ciclo perché secondo noi andare a fare il test in pressione alla fine di ogni ciclo con l'aria va a portare continuamente ossigeno e secondo noi contribuisce a tappare i circuiti stiamo provando un sistema per cui si lavora sempre con acqua si lavora in depressione e stiamo ragionando anche se riuscire a vedere non solo quando il circuito perde ma anche quando è tappato mentre fino ad oggi si è solo visto si può solo vedere fondamentalmente si fa il test in pressione e si vede se perde pressione quindi si può vedere solo se il circuito è bucato stiamo cercando di ragionare comunque la risposta è sì possiamo gestire anche il jet cooling ma con una macchina diversa molto più piccola che gestisce fino a 20-25 litri 5 canali o una macchina più grande che ne gestisce fino a 100 abbiamo i due sistemi uno con 20 litri l'altro con 100 litri sul nostro sito potete vedere le specifiche della macchina prego se non ci sono altre domande possiamo salutarci grazie mille a Daniele Sagone a GFond e ecco nei prossimi giorni riceverete appunto la mail è arrivata un'altra domanda un'altra domanda buongiorno Perpetuo è possibile adattarlo sulla Greencasting TG1 400 buongiorno Zolt il nostro cliente ha già queste macchine e allora bisogna valutare qual è la versione di software che hai sulla tua centralina dopodiché sì si può implementare sia sulle versioni vecchie con qualche modifica in più sulle versioni nuove sono Perpetuo basta ragionarci in quel caso coinvolgere anche il mio collega che segue prettamente la parte di Perpetuo ok ringrazio per la risposta ci sentiamo grazie ciao grazie a te presentazione grazie a te ho paura come vi dicevo come vi dicevo appunto riceverete quindi una mail con la registrazione del questionario eccoci ovviamente anche i contatti di Daniele Sagone così se poi volete approfondire insomma l'argomento è ovviamente a disposizione grazie mille buona giornata grazie a voi arrivederci arrivederci grazie 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 grazie